Ehi, ehi ragazzino! Ma, dici a me? Sì, sì, vieni, sali in macchina! Ah, ok! Ma, ma scusa, tu chi sei? Ciao, come stai? Io sono un amico di tua mamma! Ah, ho capito! E dove mi porti adesso? Beh, adesso andiamo a farci un giro e poi ti riporto a casa! Senti, ascolta, visto che ho fame, mica ci avresti una merendina? No, non ne ho merendine! No, e allora guarda, fermati al McDonald's e prendimi qualcosa da stuzzicare! Non mi fermo da nessuna parte, hai capito? Ragazzino stupido! Senti, mica per caso avresti un iPad, un cellulare per farmi giocare? Ma, ma possibile che tu non stai mai zitto? Non ho né iPad e né cellulare, ok? Ma sembra che non si arriva più a casa, mi sto annoiando! Tra un po' arriviamo, ok? E però per il momento stai zitto! Però comunque sei una persona sgorbutica, perché mia mamma quando mi viene a prendere a scuola non solo mi porta al McDonald's a prendere i nuggets, però mi dà anche il suo iPad, mi fa mettere le cuffie e dice di starmi zitto, però mi accontenta! Io non sono tua madre! Senti, facciamo un gioco? Ok, va bene, che gioco? Io ti dico un colore che i miei occhi vedono e tu devi indovinarmi l'oggetto in questione! Sì, sì, vai, vai! Mmm, i miei occhi vedono il colore blu! Blu, blu, la spia dell'aria condizionata? No! Ah, semplice, il cielo! Mmm, ritenta! Eh, beh, allora non lo so, mi arrendo! È il colore dei lampeggianti della polizia che ti sta accanto! Cosa? Merda! E comunque sei mal informato, perché mia mamma, amici maschi, non ne ha! Fa un culo, ragazzino!